Bene, fine partita con Agatino Pistone. Partita che sulla carta era facile, però poi si è rivalata a Rognosa. Forse è stata affrontata con un po' di sufficienza. Sì, abbiamo preso questa partita sotto camba. Pensavamo che era una partita molto facile, perché si presentavano in otto, sette giocatori, facevano cinque minuti e poi uscivano. Invece oggi si sono dimostrate una squadra compatta e quindi abbiamo sofferto un pochettino nel primo tempo. Poi abbiamo trovato il collo con Toscano e un pochettino la partita è stata in salita. Senti, ma oggi eravate in campo, ma pensavate alle prossime tre partite che sono decisive per la stagione del Sant'Alessio? No, beh, diciamo che pensavamo a questa partita, sì, però pensavamo anche all'Antillese che è una partita molto tosta in quel campo e molto difficile da giocarla. Perché sappiamo tutti, se vinciamo ad Antillo, diciamo che la matematica non c'è, però è quasi fatta. Senti, oggi poi il Sant'Alessio è in formazione rimaneggiata perché molti dei titolari sono stati lasciati a riposo o squalificati ad hoc per evitare di incorrere in qualche sanzione in questa partita. Il mister non ha lasciato nessuno a riposo, erano alcuni per espulsioni, alcuni per infortuni. L'essenza è quando manca Di Bartolo, Pistone, Ciatto e compagni. Un pochettino siamo scoperti in alcuni reparti, però siamo una squadra molto compatta, abbiamo ottimi giocatori che possono coprire bene i reparti. Ok, grazie. Grazie.